ragazzi ben ritrovati io sono come sempre il baina e piccola chicca mentre spostando la webcam e sperando che non salti tutto stiamo guardando il buon enigma in live ho dovuto avviare questa registrazione seguite enigma che è bravissimo allora ragazzi miei al posto di questo video ci sarebbe dovuto essere un video di un'oretta riguardante una try di questo decathlon 4 emblem standard con uvi soldati che ho fatto durante una live ma in quella live sono stato troppo evidentemente troppo pesante e non volevo portarvi un aspetto solo ed esclusivamente di rabbia ed delusione come ho manifestato in quella live riguardo al terzo e al quarto evento decathlon che ci è stato dato su arena durante questo questa serie di eventi che ormai abbiamo chiamato e conosciuto con il nome appunto di decathlon allora parliamo dalle cose belle il primo evento e il secondo evento ovvero il jump in e il pauper personalmente mi sono piaciuti l'avevo già detto in un altro video erano carini erano degli eventi diversi dal solito il jump in in particolare mi è piaciuto particolarmente così come mi è piaciuto il pauper perché portavano diversità perché ti facevano giocare a magic ma in modalità un pochino diverse dal solito costruito o dal solito limited tra l'altro il jump in per i nuovi giocatori come consiglia il buon tortello amaro dovete assolutamente non perdervelo perché anche quando è disponibile sulla piattaforma vi dà più risorse a livello di diciamo così costo iniziale o costo di ingresso negli eventi jump in quello che vi voglio dire adesso però è che invece questo terzo e quarto evento beh mi hanno fatto cadere le braccia allora sarò meno cattivo rispetto come sono stato in live ma vi devo dire alcune cose allora questo partiamo partiamo dal siled dai partiamo dal siled in realtà no dai in realtà partiamo da questo dai partiamo da qui dall'emblem standard finalmente sono riuscito a fare 7-2 con un mazzo che mi è stato consigliato dal buon moris sul discord quindi reclamiamo il quarto gettone gli ho già tutti e quattro molto bene ne mancano sei sarà molto duro averli tutti e sei ma ci proverò allora allora ragazzi miei questo emblem standard io non so chi all'interno della programmazione di magic arena o di wizard of the coast in generale all'interno dello staff che si occupa della gestione eventi di arena chi abbia progettato questa cosa ma lo invito a fare molto i conti sulle proprie capacità riguardo questo gioco perché nessuno ripeto nessuno che ha mai toccato queste vediamo dove sono neanche una qui perché ho riordinato prima prenderò le bustine nessuno che ha mai toccato le carte fisiche di magic the gathering progetterebbe un evento simile perché non non va bene m non è magic questa cosa molto brutta al limite del fare schifo non è magic perché tutti quanti tutti quelli che hanno toccato con mano almeno una partita di magic sanno benissimo che c'è una differenza enorme dal giocare a magic nel modo normale o meglio che c'è una differenza nel giocare a magic tra il modo normale e questa modalità questa modalità fa acqua da tutte le parti perché soprattutto come scelta tra l'altro l'hanno fatta nel formato best of one e questa cosa è allucinante anche questa perché perché dare un mana gratis ragazzi all'inizio della partita per chi è on the play soprattutto è un vantaggio enorme in questo gioco ma zio pera ma chiunque lo sa chiunque abbia mai giocato a questo gioco sa che il gioco cambia non in positivo se si da un mana gratis all'inizio ragazzi cioè il poter fare di primo doppio pezzo a uno oppure di secondo fare un drop a tre e io ve ne dico uno a caso liliana del velo o fable of the mirror breaker ragazzi rispetto a chi gioca on the draw ma cazzo ma è completamente allucinante e straforte rispetto a quello che può fare poi l'oppo in che pesca la sua carta in più ma chi l'ha progettata questa cosa questo questo evento è stato orribile da giocare e sarà orribile da giocare anche quello alchemy 100 100 ragazzi ma 100 100 io non ho giocato a magic non ho giocato a magic ho investito un sacco di risorse per avere questo token e non ne è valsa la pena lo so ho avuto un sacco di riso di ritorni a livello di pacchettini visto che ho fatto bene 563 e 172 ma no ma no io non voglio più vedere eventi come questi è completamente sbagliato tutti noi lo sappiamo tutti gli esperti di magic sanno che cambia radicalmente il gioco avendo una spell gratis ragazzi cambia completamente cambia completamente chi lo ha progettato non ha mai giocato a questo gioco ve lo dico io ve lo dico io cioè davvero se si partiva on the draw in alcune partite si aveva perso al secondo turno se si appoggia l'iliana di secondo ragazzi in un formato come questo standard è difficilissimo staglia dietro se non sia un già riempito la board di primo che è molto difficile tra l'altro io ho vinto delle partite dove giocavo ragdos perché di secondo facevo obnixilis di secondo facevo liviana e vi posso assicurare che gli oppo non hanno giocato a magic e neanch'io perché alla fine ho fatto un placewalker che ha vinto da solo ha fatto tutto lui e io non ho fatto niente ma allora io ho tirato parole di fuoco verso i programmatori che hanno detto si va bene questo tipo di evento per il decathlon e ne tirerò ancora quando arriverà l'alchemy perché davvero c'è una mancanza a livello di base del gioco chi l'ha chi ha accettato questa cosa o lo ha fatto per mangiare le risorse dei giocatori e ci sta ok o davvero non ha idea di che prodotto ha tra le mani non ha idea di cosa sia giocare a magic non ce l'ha andiamo a parlare del siled anche per il siled è stato un mezzo disastro l'ho vinto anche quello con un po meno fatica rispetto allo standard perché quantomeno è un siled però porca miseria ragazzi perché fare un siled di tre espansioni diverse solo perché hanno il tema dominaria c'è un grossissimo problema di base quando si fa un siled quando si programma un limited a livello di costruzione del set e a livello di costruzione appunto del formato limited perché un set non può avere troppe discrepanze di power level nelle carte che ha al suo interno perché altrimenti tutti giocherebbero quelle carte tutti drafterebbero quelle carte eccetera eccetera insomma un set deve cercare di essere bilanciato anche per il livello di gioco del limited ma se si prendono due booste di un'espansione tra l'altro molto vecchia di un power level molto più alto di queste due booste di un'espansione ancora un po più vecchia due booste dell'espansione più recente si fa un misturotto senza contare che c'è brothers war che ha dentro anche l'archivio mistico che ha dentro ha delle spell che hanno un power level ancora più grande perché fanno parte dell'artivio mistico e sono ristampe di spell molto vecchie dal power level enorme questo siled è stata una brodaglia orribile l'ho vinto solo perché ho topdeccato una rara cioè scusate non ho topdeccato ho aperto una rara contro la quale gli oppo non potevano giocare semplicemente una rara che costasse in mana verde ho fatto un mazzo che rampava aggiunta ho aperto una rara e una mitica che stavano bene in quel mazzo lì basta 7-1 non ho praticamente mai giocato a magico ho appoggiato carte sul tavolo senza una reale strategia tanto sapevo che se arrivava la bomba fatto è finito sti cazzi vinta e portata a casa non è quello che mi aspettavo da un evento come il decathlon non è quello che mi aspettavo per i nuovi giocatori perché davvero anche questo siled mangia tante risorse e fidatevi che essendo phantom non ne vale minimamente la pena quindi mio consiglio spassionato ragazzi e mi dispiace dovervelo dare ed essere così critico nel darvelo è di evitare questi eventi a meno che vogliate davvero giocare competitivo e qualificarvi per la finale avendo anche i 10 playing points se siete nuovi giocatori se non avete interesse nel giocare competitivo lasciate perdere sono due veramente eventi disastrosi e non ne vale la pena a livello di investimento quindi lasciate perdere davvero vi do questo consiglio ma veramente dal più profondo del cuore con tanta delusione d'amarezza è un bel peccato è veramente un grande bel peccato vedere che con un prodotto così bello come magic arena un prodotto che potrebbe davvero andare incontro tanto ai giocatori per farli giocare questo gioco con mille sfaccettature eccetera eccetera vada ad arenarsi in queste cagate perché queste sono veramente veramente cagate allucinanti questi ma proprio sono errori di concetto base che da programmatori della wizard che ormai sono 30 anni che fa questo gioco non lo so io non mi voglio aspettare mi fanno veramente cadere le braccia quindi io spero davvero che qualcuno della casa madre veda questo video non si arrabbi ma lo prenda come spunto di riflessione anche per magari cambiare un pochino rotta perché davvero io non ho giocato a magic in questi due giorni ho fatto un altro gioco ma io non voglio giocare un altro gioco alchemy per chi diceva alchemy non è magic eccetera eccetera alchemy è molto meglio di questa cosa alchemy è molto meglio di questa cosa perché non rompe le regole base di magic un mana gratis e quindi la possibilità di fare delle spell che costano di più rispetto al loro costo di mana in maniera diciamo così più più repentina e più veloce rispetto al gioco normale quello è rompere magic the gathering perché esci dalle regole base nelle quali il gioco si è formato e nelle quali il gioco nuota quindi ragazzi mi dispiace tanto ma sconsiglio vivamente il decathlon 3 e il decathlon 4 sconsiglierò anche il decathlon alchemy che è uguale all'evento standard da quello che abbiamo letto e peccato grande delusione d'amarezza lascio qui per se qualcuno vuole vederla la lista con cui nel siled ho fatto il 7-1 e ragazzi già dal mazzo è stata proprio una questione di fortuna guardate che roba adesso la vedete grande la sistemo subito datemi un secondo eccola qui cioè ditemi voi se non è già perfetta cioè era perfetta veramente ragazzi io non ho io ho aperto delle buste e non ho giocato ho appoggiato delle carte sul tavolo e ho vinto questa è la lista con cui ho fatto il 7-1 con cui mi sono vergognato perché mi sono vergognato di vincere non per merito mio ma per merito di quello che ho aperto e invece per quanto riguarda la lista dello standard con cui ho fatto 7-2 nell'evento orribile che è il l'emblem standard che vi invito a evitare come la peste la trovate sul nostro disco dell'ha condivisa un nostro utente si chiama moris è molto bravo molto forte e ha fatto un mazzo veramente con i controcoglioni nei colori nei colori izzet anche se c'è un trioma che serve solo per fare la pescata eccetera eccetera quindi nei colori izzet un bel un bel mazzo che faceva ovviamente di secondo kikijiki quindi era molto facile portare a casa le partite e che poi ti cala ciccioni allucinanti a livello di prototipo e e belli artefattoni che fanno un vantaggio tremendo in finale ho vinto contro un mono blu che mi ha dato del filo da torcere ma per fortuna per fortuna sono riuscito a fare una cosa bellissima in finale cioè appoggiare il prototipo che fa altre due copie di se stesso rapido 4-4 l'ho fatto tre volte no scusate l'ho fatto due volte una volta prototipo una volta no l'oppo aveva un board tre tolarian terror un jean e due devil of secret ho attaccato con tutto perché ero disperato in mano avevo solo due vrat di brother sword e che fanno tre danni a tutto e quindi ho attaccato con tutto lui ha parato per fortuna per fare tutta quella mega board lì a resistere ai miei prototipi ci han bloccato e si è tappato fuori con il mano ovviamente per castare le sue creature al che io poi ho pulito board con la vratta e da lì lui non mi ha più preso è stato un caso ripeto evento orribile io lo sconsiglio a tutti ragazzi grazie mille per aver visto questo mini video questo video un pochino mini sfogo ci vediamo alla prossima live grazie di cuore come al solito per tutto il sostegno che mi date non buttate risorse in questi eventi ciao ragazzi grazie a tutti